Arriva il decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana relativo al Dipartimento che tutela la stazione radio o antenna omnidirezionale RAI ed onde media di Caltanissetta che comprende il traliccio, la cabina di sintonia, blocchi di ancoraggio degli stralli e gli apparati di radiotrasmissione che si trovano al piano terra e primo piano dell'edificio. In contrada Sant'Anna di proprietà di Raiway e SPA dichiarandoli di interesse etno-antropologico. Il dirigente generale decreta inoltre che il vincolo porta al divieto di distruggere, danneggiare o adibire ad usi non compatibili con il loro carattere etno-antropologico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione ai beni interessati. Possibili invece in casi di urgenza lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela dando una comunicazione però alla soprintendenza e inviando anche i progetti definitivi per l'approvazione. Una notizia positiva per la città così come spiega i vocigni a presidente di Lega Ambiente Caltanissetta nonché componente del Comitato Parco Antenna Sant'Anna. Oggi il Dipartimento regionale ai beni culturali e alle identità siciliana è messo nuovamente un vincolo di tutela etno-antropologico sull'antenna railway della collina Sant'Anna di Caltanissetta. Questa notizia è molto importante che ci rassicura perché mette sotto tutela questa importante risorsa. Per dire il vero, continua a mancare però due altrettanti importanti passaggi. Uno, e devono riprendere i monitoraggi sullo stato reale di usura di questa antenna. Questo anche perché è legittimo ed è giusto non solo per tutti ma soprattutto per chi vi abita sotto, ecco capire lo stato reale appunto in cui versa l'antenna e appunto intervenire nei giusti modi. Continua a mancare un serio piano di sviluppo, di valorizzazione di questa antenna che secondo noi è dietro l'angolo. Sollecitano adesso un intervento da parte dell'amministrazione comunale. Secondo noi dovrebbe acquistare l'aria. D'altra parte il railway ha detto che regalerebbe l'antenna al comune di Caltanissetta mentre vorrebbe concordare sempre con questa amministrazione il valore reale di questi 13 ettari di grande bellezza naturale che si trovano sulla collina Sant'Anna più gli immobili che vi stanno nelle pertinenze. Per sostenere la manutenzione straordinaria e ordinaria invece dell'impianto chiedono un supporto finanziario da parte della regione. I tempi sono stretti, entro il 30 aprile bisogna approvare la nuova finanziaria e là va inserito o in legge finanziaria o con emendamento ecco la giusta copertura per fare questo.